Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo e cominciamo a parlare di No Rest for the Week in maniera più significativa. Vi ho preparato un video di panoramica e di sintesi di tutto quello che sarà l'accesso anticipato di No Rest for the Week che uscirà il 18 aprile, in accesso anticipato solo su PC e quindi su Steam. È un video un po' insolito perché appunto l'ho scritto, c'è solo VoiceOver, l'ho montato eccetera eccetera. Cosa che di solito non faccio, i miei video sono molto più a braccio, penso che lo sappiate. Ma è utile perché così è più sintetico. Inoltre vi annuncio, ma poi ve lo ridirò anche nel video verso la fine, che No Rest for the Week sarà un gioco che seguirò parecchio, almeno per l'inizio, poi vediamo come si evolve la situazione. Quindi lo prenderò il 18, ci sarà all'inizio un gameplay, ci saranno delle prime impressioni, probabilmente ci saranno delle guide, insomma lo spulcerò per bene perché è uno dei giochi che mi interessa di più in tutto il 2024. Ho delle ottime sensazioni, credo che sarà un gioco molto molto buono. L'unica preoccupazione mia è quanto sarà grande a livello di contenuti questo accesso anticipato. Ma questo chiaramente lo scopriremo dopo il 18 e per tutto il tempo dell'accesso anticipato, che credo sarà almeno di un annetto. Non si sa una durata certa, ma insomma qualche voce c'è, quindi più o meno sarà un annetto, credo. Va bene ragazzi, io vi lascio al video, però vi ricordo, adesso nasce la playlist di No Rest for the Week, quindi magari se siete nuovi, se siete capitati qua per caso, iscrivetevi. Non fa male. Ci becchiamo per altri video sui videogiochi. Ciao ciao. Da Moon Studios, i pluripremiati sviluppatori di Ori and the Blend Forest e Ori, The Will of the Wisp, arriva No Rest for the Wicked, un cruento action RPG destinato a reinventare il genere. Con uno stile grafico clamoroso che sembra uscito da un quadro dipinto a mano. No Rest for the Wicked uscirà in accesso anticipato unicamente su PC Steam il 18 aprile. Arriverà su console solo quando sarà pronta la 1.0. Riguardo questa scelta, ecco alcune domande e risposte da parte degli sviluppatori. No Rest for the Wicked è un titolo ampio, che include una grande varietà di sistemi, funzionalità e narrazioni. Al lancio dell'accesso anticipato nel 2024 si trova ancora in fase di sviluppo. Essendo il gioco più ambizioso pubblicato finora dal nostro studio, avremo bisogno di feedback, per perfezionare e integrare al meglio tutti i sistemi e le funzionalità di Wicked. Il prezzo del gioco varierà durante e dopo l'accesso anticipato? Abbiamo intenzione di offrire un prezzo scontato durante l'accesso anticipato, che poi andrà ad aumentare quando il gioco passerà alla versione 1.0, o quando non sarà più in accesso anticipato. Chiunque abbia acquistato il titolo durante l'accesso anticipato non dovrà effettuare alcun acquisto aggiuntivo a rilascio della versione 1.0. Qual è lo stato attuale della versione in accesso anticipato? Il 18 aprile troveremo un ricco primo capitolo della campagna narrativa. Missioni aggiuntive che rivelano più informazioni sul mondo e i suoi abitanti. Avvincenti combattimenti contro boss infetti dalla peste. Grande varietà di armi, armature, abilità e opzioni di creazione. L'equipaggiamento potrà essere potenziato, incantato e imprezzosito con rune e gemme, in base al proprio stile di gioco. Sarà possibile acquistare e arredare la propria casa personalizzabile. Ci saranno taglie e sfide giornaliere e settimanali. Ci sarà un dungeon rigiocabile, il crogiolo Serim. Quali saranno le differenze tra la versione completa e quella in accesso anticipato? La versione 1.0 di No Rest for the Weekend sarà notevolmente ampliata rispetto a quella dell'accesso anticipato. Questa versione prenderà in considerazione i feedback forniti dai giocatori durante lo sviluppo e potrebbe differire dai nostri piani originali. Prima del rilascio della versione 1.0 saranno aggiunte nuove funzionalità, tra le quali modalità multigiocatore, cooperativa fino a 4 giocatori, modalità multigiocatore PvP, capitoli e contenuti della storia ampliati, zone della mappa aggiuntive, meccanica di farming, più armi, armature, oggetti rari ed equipaggiamento, nuovi boss e nemici, nuovi livelli della cripta, taglie e sfide aggiuntive. Nell'anno 1841 Rearol è morto. Mentre la notizia della sua morte riecheggia in tutto il regno, la corona passa al figlio Magnus, un ragazzino presuntuoso che deve ancora dimostrare il suo valore. Ad aggravare la situazione c'è il ritorno della pestilenza, un'empia piaga che non si vedeva da mille anni e che si diffonde in ogni angolo della terra, corrompendo ogni cosa e individuo che tocca. La madrigale Selin, una figura spietatamente ambiziosa all'interno della chiesa, vede nella pestilenza un'occasione per mettersi alla prova agli occhi del suo dio. Queste forze convergono sulla remota isola di Sacra, dove gruppi di ribelli e il governo provinciale combattono per il controllo tra le rovine fattiscenti dell'isola. Tu fai parte dei Serim, un gruppo a cui appartengono mistici guerrieri sacri dotati di poteri straordinari che hanno giurato di sconfiggere la pestilenza a ogni costo. Tuttavia, il compito si rivelerà sempre più arduo, man mano che toccherai con mano le sofferenze della gente e le numerose lotte politiche di questa terra oppressa. Il caos ti trascinerà nelle direzioni più disperate, mentre cercherai di liberare la terra dalla malvagità e dare una nuova speranza al regno. Moon Studios ha progettato meticolosamente il mondo di No Rest for the Wicked, evitando la generazione procedurale a favore di dettagli realizzati a mano. I giocatori esploreranno ambienti curati con attenzione, che offriranno viste mozzafiato, cicli giorno-notte dinamici e variazioni climatiche. Grazie alla loro esperienza nei Metroidvania, anche No Rest for the Wicked avrà un mondo intricato e interessante da esplorare, ricco di passaggi segreti, scorciatoie e tesori nascosti, dove la verticalità della mappa sarà centrale. No Rest for the Wicked cercherà di rivoluzionare il genere degli action RPG alla Diabolike, con un combat guidato da un sistema basato su animazioni, che privilegia la precisione e la strategia rispetto al caos e allo spam di abilità. Un sistema di combattimento che strizza l'occhio ai Souls-like, animazioni uniche per ogni arma, utilizzo di stamina come risorsa, insieme al focus che verrà invece usato per le abità speciali. Ci sarà anche un'attenzione al peso dell'equipaggiamento, che determinerà la rapidità e l'ampiezza delle schivate, nonché la possibilità di parare e deflettere i colpi con il giusto tempismo. I nemici infine saranno limitati di numero, ma molto letali. Quindi è un Souls, che palle! Non proprio, non ci sono penalità alla morte, né di XP né di oggetti, solo qualche danno alla durabilità dell'equipaggiamento. Inoltre tutti i nemici uccisi non torneranno anche dopo aver riposato. Le zone si resetteranno solo se completate. No Rest for the Wicked è un gioco loot-driven senza classi. Le tue armi detteranno il tuo stile di gioco e il peso della tua armatura stabilirà come schivi. Per quanto riguarda le armi, le cose sono nuovamente familiari, ma abbastanza diverse da essere uniche. Le armi bianche sono comuni e gli sviluppatori ci esortano a non pensarle come noiose, ma invece come le più personalizzabili. Come possiamo personalizzarle? Beh, su questo ancora non sappiamo. Gli oggetti blu sono rari e hanno solo incantamenti positivi su di essi. Gli oggetti viola sono dove le cose diventano interessanti, sono maledetti e presentano incantamenti molto positivi, ma anche un incantamento negativo. Infine ci sono gli oggetti dorati che sono unici e interamente realizzati a mano dagli sviluppatori. Non hanno statistiche casuali e offrono incantamenti appunto unici. Penso che gli oggetti dorati saranno quelli che tutti vorremmo trovare. Tutto il bottino in No Rest for the Wicked sarà generato casualmente, il che significa che un baule del tesoro nella mia partita avrà qualcosa di completamente diverso della tua. Questo non vuol dire che non ci saranno potenzialmente dei bottini fissi, magari un boss speciale o una cassa segreta, ma per quanto ne sappiamo la maggior parte del loot sarà casuale. Le battaglie contro i boss saranno una sfida brutale. Questi incontri richiederanno un'esecuzione impeccabile e puniranno i vostri errori. Tuttavia, rimanendo composti e sfruttando le abilità affinate durante il tuo viaggio, la vittoria diventerà raggiungibile. In questo gioco il successo dipenderà sia dalla tua destrezza personale che dalla forza delle tue attrezzature, ma evidenzierà l'abilità dei giocatori più capaci. In No Rest for the Wicked i giocatori avranno l'opportunità di visitare Sacrament, la città capitale di Isola Sacra. Nonostante sia stata pesantemente danneggiata dalla guerra, la città è ora aperta a chiunque voglia contribuire alla sua ricostruzione. Potrai contribuire alla rinascita della città completando varie missioni, personalizzarla e possedere una proprietà. La tua casa poi potrà essere arredata sia con oggetti puramente estetici, ma anche costruendo utili banchi da lavoro per il crafting, con i quali poi potrai potenziare e creare nuovi equipaggiamenti. In questo accesso anticipato saranno presenti anche due tipi di endgame. La modalità Alive, dove si potrà tornare nelle zone già esplorate. Le mappe rimarranno invariate, ma i nemici cambieranno in modo randomico, così come i bottini nelle casse e i boss. La seconda modalità sarà il crogiolo dei Serim. Su questo si sa ancora molto poco, ma pare possa essere una sorta di modalità roguelite, con location, mostri e boss casuali, dove saranno presenti i nemici piuttosti del gioco. Ma ne sapremo di più dopo il 18 aprile. Bene ragazzi, con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi se volete ricevere altri contenuti su No Rest for the Wicked. Il gioco di Moon Studio verrà da me seguito da vicino nei giorni successivi al lancio dell'accesso anticipato. E ci saranno quindi gameplay, prime impressioni e probabilmente anche qualche guida. È uno dei miei giochi più attesi dell'anno e quindi speriamo che possa essere un gran bel gioco. Per questo video è tutto ragazzi, vi saluto e vi auguro sempre di star bene. Ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Salutoni!